ciao ragazzi siamo a mirabello andiamo intervistare il campione locale allora cosa ne pensi giordi com'è la pista non fa per me una merda non fa per te andiamo a sentire l'outsider un mirabello così mai visto prima ragazzi parlate con giordi parlate con giordi oggi è lui quello da battere adesso vado dentro e faccio ridere ci vediamo dopo ciao 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 ciao